Drago molto vicino a lui, Verrocchino entra il Drago in questo istante, è mossa lasciata a mani, da più di Chiocciola e Atila, c'è tutti con anche Pantera e Bruco che non erano partite male, poi Lunda e le altre contrade. La Chiocciola che va a affrontare la prima turba di San Martino, Chiocciola, Atila, la contrada della Pantera, poi c'è Lunda, il Bruco, localistri c'è la selva, il Drago chiudono la torre. Curva del Casato, ancora molta briga per la contrada della Chiocciola, Francesco Caria tremendo sta molto spingendo una per tutti, ha rallentato la Pantera in seconda posizione, poi c'è L'Aquila, Lunda e le altre contrade. Chiocciola che adesso rallenta prima di affrontare la seconda curva di San Martino, una margine davvero molto elevata tra la Chiocciola e la Pantera che gira adesso la curva di San Martino, poi c'è Lunda, Listeri, l'Aquila, l'Oca, la selva, il Bruco, il Drago e la torre che ha a Fonte Gaia. Ha rallentato l'andatura, è sempre in testa, comunque la contrada della Chiocciola adesso affronta un casato interessante la Pantera, così fa anche Listeri, c'è Lunda, la selva. Chiocciola si avvicina alla contrada della Pantera, però ha rallentato anche lei l'andatura e quindi è sempre la Chiocciola in testa, è sempre tremendo su una per tutti che gira la curva di San Martino. Poi la Pantera, Lunda adesso è sotto palazzo San Seloni, poi la selva, l'Istrice, la Chiocciola si sta avvicinando alla contrada della torre, gira la curva del casato, la Chiocciola e quindi Chiocciola vince la terza prova. Francesco Carea ha detto tremendo una per tutte, nei suoi spalle arriva Trecciolino sul tabacco nella Pantera, poi c'è la contrada dell'Onda, la contrada della selva e quella dell'Istrice.